Presidente Di Giovanni, si chiude l'anno in bellezza dopo l'amarezza di quel campionato sfumato prima del lockdown. Per fortuna oggi avete vinto per voi e quindi si va in vacanza con il sorriso sulle labbra. Sicuramente sì, è stata una bella partita, non una bella partita, è stata una partita sofferta, con molto agonismo, con due squadri forti. L'ho detto anche ai tuoi colleghi, devo fare i complimenti al Castelnuovo perché sinceramente mi ha impressionato come squadra, come grinta, come voglia di lottare e di vincere. Poi noi abbiamo fatto due Eurogol, quindi credo che la vittoria ci possa stare. Logicamente sono contento per la società, per i ragazzi, sì perché venivamo poi da una sconfitta di Campobasso, quindi una debla che è stata giù. Però abbiamo reagito bene, ho visto una squadra compatta e quindi ho fatto i complimenti ai ragazzi. Per quanto riguarda il 2020, sinceramente è stato un anno tragico, non solo da un punto di vista sportivo, però da un punto di vista salutare. Quindi quello che è successo e che sta succedendo ancora con questo benedetto Covid che non sparisce, è stato un anno particolare. Noi avevamo vinto il campionato, l'abbiamo buttato sinceramente perché avevamo 11 punti di vantaggio il girone d'andata. Poi il girone di ritorno, non so che cosa sia successo, è chiaro che poi si è interrotto questo campionato. Il nostro rammarico principale è che se veniva stoppato una settimana prima, così come è successo dal centro nord, dalle miglie in su, che l'avevano fermato una settimana prima della nostra, noi avremmo vinto il campionato perché eravamo primi. Quindi l'ultima partita che abbiamo giocato l'abbiamo perso, il Matelica l'ha vinto e quindi ci ha scavalcato. Riproverate quest'anno? Quest'anno ci vogliamo riprovare, ci vogliamo riprovare, quest'anno abbiamo allestito effettivamente un'ottima squadra perché vogliamo essere protagonisti. Poi l'ho detto anche ai ragazzi e a tutti quanti, noi vogliamo cercare di vincere, abbiamo fatto una squadra a punto importante, ho detto sempre che dobbiamo stare lì attaccati alle prime posizioni, poi alla fine tireremo le somme. Se abbiamo vinto siamo stati bravi noi, se ha vinto qualcun altro significa che qualcun altro è stato più bravo di noi.